Sta per iniziare la settimana che ci porterà alla sfida del Palacarrara contro la Fortitudo Bologna. Il match e provvedimenti sul coronavirus permettendo è in programma domenica 1 marzo alle 18.30 in un palasport di via fermi che sta velocemente andando verso il tutto esaurito. Sabato pomeriggio intanto l'amichevole fra i bianco-rossi e il Treviglio, formazione di Serie A2 che si doveva giocare a Fidenza, non si è disputata visto che in quella zona vige la sospensione di tutte le attività sportive. La squadra di coach Michele Carrea ha proseguito quindi ad allenarsi fra le muramiche dopo un breve periodo di riposo. Infatti tutti i giocatori sono rientrati alla base, ad eccezione di Caruidol, impegnato con la nazionale britannica nelle qualificazioni in vista degli europei 2021. Ovviamente c'era anche l'ultimo arrivato, Randy Calpepper, che a dir la verità sta lavorando con lo staff tecnico già da una settimana. Per quanto riguarda i felsinei, che saranno seguiti a Pistoia da almeno 300 sostenitori, c'è da segnalare la brutta tegola dell'infortunio di Cassius Robertson, che in una partita fra la sua nazionale canadese e la Repubblica Domenicana ha riportato la frattura di una mano. Per lui si parla di uno stop di almeno 40 giorni.